Le migliori strutture ricettive e ristorative di Puglia sono state protagoniste dell'evento che mercoledì 30 novembre presso la Sala degli Affreschi dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari ha visto la presentazione della neonata associazione La Puglia è Servita. La storica guida, oggi disponibile in formato digitale, prende vita con la creazione di un'associazione presieduta da Giuseppe Schino. L'obiettivo dell'associazione è quello di far crescere, da un punto di vista professionale, il livello dell'offerta turistica della Puglia perché il mercato è un mercato sempre attento ai cambiamenti, è un mercato che ci vede di fronte a nazioni emergenti dall'altra parte dell'Adriatico e non possiamo più rimanere alle bellezze naturali narrate da nessuno, ai piatti che non vengono spiegati, ai vini che non vengono illustrati. Nel corso dell'appuntamento che ha segnato il passaggio di testimone tra Vittoria Cisonno, fondatrice della pubblicazione, e Giuseppe Schino, si è parlato di opportunità di sviluppo del turismo enogastronomico e prospettive di formazione per i professionisti dell'ospitalità, in un dibattito moderato dalla giornalista Licia Granello e al quale hanno preso parte l'assessore alla formazione e lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, il direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, Gianluca Nardone, i docenti della Facoltà di Agrari dell'Università degli Studi di Bari, Maria Lisa Clodoveo e Salvatore Camposeo, e il magnifico rettore Felice Uricchio. L'iniziativa è stata anche l'occasione per premiare le strutture presenti nell'edizione 2016 della Guida alla Puglia e Servita e presentare la pubblicazione Vini di Puglia 2017, edita da Tirso Media, va de mecom del leno appassionato, da quattro anni punto di riferimento del panorama enologico regionale. All'interno ci sono presenti oltre 250 etichette, quindi c'è da scegliere nelle varie tipologie e soprattutto devo ringraziare per questo lavoro che ormai da quattro anni facciamo insieme con Assoenology e oggi è una commissione composta anche tra AIS, Assoenology e Onav. Loro ci riuniamo nel mese di luglio e quindi degustiamo tutti i vini e poi li raccontiamo e oggi eccola sulla carta stampata, pronta per l'uscita. Va in edicola, in libreria, ma soprattutto nei ristoranti dove i ristoratori la consultano, scelgono i vini, consigliano i vini ai loro clienti e quindi per noi è una promozione importante per il territorio della Puglia e per l'enologia pugliese.